Buon tutto a tutti e benvenuti ufficialmente all'interno del nuovissimo canale Lupus The Second Side. Prima di intraprendere il nostro percorso con il nostro primissimo gioco del canale, voglio rubarvi un minuto e mezzo della vostra attenzione e del vostro tempo, introducendovi quelli che saranno i progetti e le motivazioni che mi hanno spinto per l'appunto all'apertura di questo mio secondo canale. Ebbene sì amici, questo è il mio ufficiale secondo canale. Ne ho già uno, chiamato per l'appunto Lupus in Game, ecco perché molti di voi mi conoscono come Lupus. Gli altri che non mi conoscono mi posso anche presentare. Mi chiamo Gianluca e ho 38 anni. Ho iniziato questa mia, tra virgolette, sporchissima carriera all'interno di questa meravigliosa piattaforma che è YouTube nell'agosto del 2015. Il mio progetto iniziale era per l'appunto quello di aprire un canale che potesse in qualche maniera spaziare e ampliarsi su diversi titoli videoludici, ma vuoi per motivi di tempo, vuoi per il percorso che si è andato definendo nel corso degli anni, vuoi anche per la passione che mi ha contraddistinto in questo periodo, per la simulazione di volo e per la risposta e l'affetto che mi hanno dimostrato i miei H&D followers, la mia idea iniziale, il mio progetto iniziale, si è un attimino affievolito ed ha lasciato spazio solo ed esclusivamente alla simulazione aerea. Oggi che il mio canale Lupus in Game, dal quale vi invito ad iscrivervi e a dare un'occhiata se siete dei curiosoni, è già avviato, ha un suo discreto seguito, non grossissimi numeri, ma ha già una sua community. Oggi ufficialmente voglio riprendere il percorso che mi ha portato all'interno di questa piattaforma, ovvero quella di spaziare su diversi titoli, perché ho una passione innata verso i videogiochi e tutto ciò che ne concerne all'interno del suo mondo. Quindi adesso, che vi ho dato questa piccola introduzione, con questo grande benvenuto a tutti quanti, vi invito ufficialmente a condividere con me questa passione, a seguirmi, ad iscrivervi al canale, a condividerlo con i vostri amici e ad interagire insieme a me, perché questa è una delle mie principali regole. Qui dentro siamo tutti una community, qui dentro siamo tutti una cosa sola. E si va verso un'unica direzione, ovvero quella di giocare come se non ci fosse un domani su tanti ma tanti titoli, molti dei quali sarete proprio voi a scegliere. Ma adesso non ci perdiamo più in ulteriori ghiacchere e andiamo direttamente a presentare quello che sarà il primissimo gioco del canale Lugus The Second Side. E benvenuti ufficialmente amici all'interno del primissimo titolo del nostro nuovissimo canale Lugus The Second Side e quale occasione migliore se non il periodo che stiamo vivendo, Halloween. Siamo per l'appunto il 26 di ottobre, anzi il 27 di ottobre del 2020, quest'oggi, vicinissimi dunque alla notte di ogni santi, quella che per gli americani è chiaramente Halloween ed un titolo migliore di Pumpkin Jack. Pumpkin Jack non potevamo avere. Ringrazio per l'appunto l'autore di questo splendido gioco che è ancora in beta, attenzione, e mi ha rilasciato ufficialmente la key de Nicolas Masonier, un ragazzo di 23 anni che ha iniziato per l'appunto la sua carriera in questo mondo all'età di 18 anni con la progettazione prima di un gioco che però non gli era riuscito bene, non era lui soddisfatto perché abbastanza pignolo, ma con questo poi grande successo, perché il gioco sta riscuotendo un discreto successo, che è Pumpkin Jack per l'appunto. Oggi per la primissima volta ci mettiamo le mani e come avevo commesso per l'appunto all'autore di questo gioco lo ufficializzo, perlomeno ufficializzo il mio canale con il suo titolo, non l'ho ancora utilizzato, è la primissima volta, quindi muniamoci di joystick alla mano, siamo su PC ovviamente e andiamo a vedere di che cosa si tratta. Il gioco ovviamente è una chiara, come vedete, allusione al periodo di Halloween e vedremo bene di che personaggio si tratterà. Once upon a time in the great Arkansil kingdom, the world lived in peace and coexistence between the humans, the animals, the birds, even the cute little bunny rabbits. It was an age of prosperity, without anything to fear of war, famine, catastrophe. It was so, very, boring. So boring in fact, that even the devil himself was bored brainless. The devil dreamed of bloodshed, pestilence, suffering on a cosmic scale. So, he devised a plan to make things in Arkansil a little more entertaining. The devil unleashed the curse of the eternal night. A powerful spell that conjured mindless, soulless, heartless monsters across the world. The monsters lay waste to every city, every home, every leaky outhouse, and backwater town in the kingdom. It was beautiful. But, for some reason, the humans quite enjoyed their safe, boring little lives. They couldn't handle a few pesky monsters coming in and tearing them all limb from limb. So, they called upon the champion. A mighty wizard. A sorcerer with the skill and intellect to break the curse and usurp the devil's power. The wizard departed his luxurious tower and his studies to find the power he needed to break the curse of the eternal night. Very well, as the devil said. Two can play that game. And who knows, this might be the fun I've been looking for. So, in response to the wizard's quest, he called upon a champion of his own. Stingy Jack, history's greatest trickster and con artist, banished to wander the world as a wayward spirit. The devil crammed Jack's soul into the skin of a pumpkin, and made him a deal. The devil would forgive Jack's past misdeeds and grant him passage to the afterlife. And in return, he gave Jack one simple mission. Find the wizard and destroy him. The devil Tudo qui? Quindi noi arriviamo già come dei... Delle meteore. Dei dannati. Eccolo qui ragazzi Eccoci qui signori Jack testa di zucca direi E' un miscuglio tra Ghostrunner e film Quello con Jack Nicholson Non era Jack Nicholson No Era Kenny Spacey No Non mi ricordo Vabbè Quello là Ah Nicolas Cage Nicolas Cage E Jack testa di zucca del mago di Oz Si pagina Andiamo Questo mondo è un disastro Allora diceva sul serio il diavolo Quando parlava di morte e di scoluzione totale Vediamo ovviamente il tipico scenario Da diavolo Pianquadivi Pannotti e zucche Vedo che è già a buon punto Eppure ha bisogno di me per liberarsi di un mago molesto Allora intanto lui salta E salta anche abbastanza alto Ci arrivi là sopra? Salta sì La gatta Va bene Tanto la sopra non ci sta nulla La domanda soggio spontanea Che genere di mago deve essere Se nemmeno il diavolo riesce a liberarsene Allora lo può dire che è un mago abbastanza astuto direi Ma lui è fenomenale ragazzi Lui è da Non so da Non so se è da ricovero o da notte oro Guarda un po' chi si è degnato di presentarsi Un bufo verde Allora c'è ancora un cervello dentro quella zucca Ho ucciso degli uomini per molto meno Per me cazzuto il nostro Jack Ritardatario e rispettoso Bel modo di presentarsi Jack Chi sei? Come fai a sapere come mi chiamo? E vuol dire che sa tante cose Sono un servitore del diavolo E sono qui per vedere come ti comporti Ne abbiamo anche gli spiomi E il diavolo non ha dimenticato i tuoi inganni Jack Non si fida di te Cerca solo di non starmi tra i piedi Ricorda ancora come arrostire un pollo Anche alla portata facile Abbi un minimo riguardo Per chi ti ha donato questo nuovo corpo A proposito procediamo con l'orientamento Eh L'orientamento E chi mi è preso? Per uno che è stato incorporeo per secoli Hai ragione Basta perdere tempo È ora di prendere confidenza con la tua nuova forma Fatto graficamente abbastanza bene Colorato meravigliosamente Direi un bell'indie Indie avventuroso Mi sa proprio Qua c'è un corvo Dà anche a voi l'impressione di essere una sorta di crash bendigo La versione testa di zucca È saggio bere da questi calderoni da zuppa primordiale Tiene insieme un tuo nuovo corpo E vediamo Doppio salto A più A Puoi eseguire un doppio salto Com'è possibile? Il tuo corpo è un maggio di diota Ma guarda che bellezza Dico un doppio salto praticamente arriva giù Vedete che stile praticamente crash bendigo Aia Quindi là ci dovevamo andare Non so voi ma io quest'acqua onestamente non la toccherei nemmeno Che stile Che stile Nuovo c'è poi Bebe Sì ma Prendi line in corsa E poi esegui un doppio salto Per superare il fiume Benissimo Ci proviamo una seconda volta? Oh Ce l'abbiamo fatta Parliamo col bufetto Finora niente male Jack Non ti vedo Troppo arrugginito E' bello avere di nuovo un corpo mio Braccia, gambe Tutto il resto D'ora in avanti dovrai imparare a usarlo bene Ci sono dei mostri Allora c'è qualcuno Non credo avrai difficoltà ad affrontarmi Beh Non sono il tipo che si tira indietro Quando c'è da sbagliare qualche cranio Bessimissimo Ma perché dovrebbero attaccarmi? Non lo sanno che sono dei loro? Cosa vuoi che sappiano Jack? Perché i mostri sono quasi tutti dei mispedenti Senza cervello A fatica si riconoscono tra loro Figurati quando ti vedranno Zucca o no Sei ancora un umano E questo fa di te un vestito Ecco perché il diavolo ha bisogno di me Mi serve qualcuno che pensi come un uomo Il nostro uomo nemico è furbo Jack E al diavolo serve qualcuno che lo sia altrettanto Capisco Quindi mi stai dicendo che non gli dispiace Che io faccia pezzi sui mostri? Praticamente sono carne da macello Fai quel che devi Basta che ti sbrighi Apure Con calma Dottore Ecco Schiva gli attacchi Ok No? 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 Non lo schiva Non lo schiva Praticamente ci abbiamo Tra virgolette Un percorso guidato Ah è tornato È tornato Volate via tutti Volate in saluto Grandioso Altri uccellaci Fatemi passare prima che mi spenno tutti Alla larga Spaventapasseri La testa non è imbottita di paglia Visto? Non solo uno spaventapasseri Adesso fate varmi Uccelli del malatturio Cravo L'allenta Per una volta ci troviamo Noi in una posizione di vantaggio Ti lasceremo passare signor Jack Non solo se ci aiuterai Apparicchietto Alla merce di un corvo Sputer ospito Nel granaio Con più avanti compare Spesso uno spaventapasseri Sono settimane che ci terrorizza È una minaccia per la nostra specie Bra E immagino vogliate che vi liberi di lui Sì E ti aiuterò per giunta Sono un volatore profetto E ho un becco affilatissimo Bra Un supporto aereo Perché no? E va bene Bra Urrà Morta al tiranno di paglia Questo è un gioco Che non più per i più piccini Però va bene alla fine Adesso abbiamo anche Sono cracarico Jack Grandioso Cioè lui mi aiuta Mi fa la strada Meraviglioso Nuovo check point Bebiamo Abbiamo anche Eccola mi piace Dai a me Non dispiace Questo gioco Attenzione Attacco Cambioso Bello Bene così Allora sì Ho capito che dobbiamo prendere qualcosa Vabbè questo non sfuta più Afferra Ok E attacca Però quanta ruggine Beh è sempre meglio che non avere un'arma Diventiamo aggressivi Adesso spacchiamo anche le casse Confermato È il fratello di Crash Ma veraviglioso ragazzi Ma veraviglioso ragazzi Sfonda questa cosa Perché se calci per esempio Ma veraviglioso ragazzi Qua beviamo Ok mi pare che dobbiamo praticamente salire fin lassù Se non Non dobbiamo spacchare tutto quello che incontriamo Ma interagire anche con quello che incontriamo Altrimenti Eh Serfinissimo là sopra Eh Eh ma per finire invece dall'altra parte Ok Questo l'abbiamo capito Vediamo se c'è qualche cosa Si arrampica pure Fantastico Abbiamo un checkpoint sopra di noi Alcune culture usano i teschi dei corvi come portafortuna e amuleti Quindi Ok Questo ci può servire Attacchiamo Attacchiamolo Benissimo così Mi piace questo corvo Aggressivissimo Grandioso Sì però mi succedisce lui Questa cosa è premere Schiva gli attacchi Questo Grandioso L'assenza di mostro è ovunque L'essenza di mostro è ovunque ormai Rompi oggetti per recuperare salute E non Che causa? L'ho detto È fatta un ricrescimento La grandiosa è questa cosa Qua sono due attacchi adesso Spara 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 Ma fantastico Fantasmico Ragazzi Più che altro E qui che abbiamo Bello Bello Ma molto meglio Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è No No stai qui con me si sta incazzando ragazzo e mo? no 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 ma siamo disgustosissimi puoi ancora usare le radici per muoverti fare doppi salti e attaccare mi viene da vomitare ma anche a me che schifo mi viene da vomitare ma anche a me che schifo ma spingi ok ok cosa abbiamo sbloccato qua ma che grandioso ragazzi che schifo però aspetta e io qua sopra come ci dovrei salire eh ah ho capito ho capito signori esatto stati lì sapete un po' che ci arriva ok quindi adesso spingiamo questa esatto ci saliamo su no vabbè abbiamo capito comunque il senso no un po' caldo wow well done apriti sesamo adesso mi andò sta bene signori direi che per il primissimo video di oggi possiamo possiamo anche chiudere qui non faremo video lunghissimi faremo video più o meno brevi non così da diciamo goderci la storia passo per passo mi raccomando quindi pollicione su se vi è piaciuto iscrivetevi al canale ragazzi e noi ci vediamo alla prossima un abbraccio a tutti ciao Grazie a tutti.